Una dieta salutare e sostenibile si può intendere come un modello alimentare che integra diversi principi, i principi legati alla salute, i principi legati all'ambiente e anche tutta una serie di valori, di tradizioni e anche alcuni aspetti legati ad esempio all'economia. Dopo la formazione che è stata fatta agli chef mi aspetto una serie di proposte ovviamente disegnate nel rispetto delle tradizioni della cucina ligura ma attenta anche a quelli che sono i principi della sostenibilità che abbiamo visto quindi adeguate in termini di porzioni, di nutrienti e ovviamente senza dimenticare tutti quelli che sono gli aspetti che abbiamo visto insieme come la stagionalità, l'utilizzo di materie prime locali e ovviamente il gusto.